Salve, buongiorno. Signore Lanadi, mattina andiamo a trovare Massimo e Roberta, l'acqua viva e poi ce ne andiamo a Daccadiglia e passeremo sul castello di lago Pesole. Speriamo di riuscire a fare tutto il programma. Sì, per forza. E' sempre lei? Più tardi? Speriamo di riuscire a fare. Speriamo di riuscire a fare. Riparazione in corso, supporto navigatore, avuto un cedimento. Speriamo di riuscire a fare. 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 Speriamo di riuscire. Speriamo di riuscire. Speriamo di riuscire a fare. Speriamo di riuscire. Speriamo di riuscire. Speriamo di riuscire. di riuscire a fare. 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 di riuscire a fare.